ragazzi sto facendo quest'intro dopo aver registrato il video e volevo solamente ricordarvi il mio instagram di descrizione cliss shop codice sconto x mother sempre in descrizione e ragazzi è tutto questo e vi lascio il video, lasciate like, commentate, iscrivetevi e arrivi al più presto i miei riscritti ciao ragazzi vabbè ho detto cosa eravamo subitare quindi per lanciarlo minimo dato dici di raggio fra se da me sono... come dici di raggio fra è un'animo morta al 130 non vale nulla non vale nulla come non vale niente? vale più il cappellino che c'è in testa di devo lanciarlo ma come vale più il cappellino che c'è in testa? dai fra seriamente che mi vuoi dare perchè non te lo do per decidere raggio sono serio che voi 20 traggio? nooo è arma mortata almeno quanto capito quanto sono armata fammi un'afferta fammi un'afferta quanto raggio hai? sui 20 mila se no armi eh 20 mila si faccio 20 mila ok armi come si è messo? bene bene eh armi mi puoi dare due armi 130? sul perco? un'arma 106 e un'arma 130 c'è una 106 e una 130 ok dipendere però che armi sono allora se non ti posso dare questa qua all'82 con solo due perc aspetta aspetta quale spettro si... come si chiama questo? libera no vabbè fra... ce l'hai un... aspetta cosa mi potrebbe interessare aspetta controllo no controllo che parli con il tuo amichetto e dici ah mio amico che gli ideano a questo piccolo mendicante fra l'abbè cosa puoi offrirmi dai fammi un'afferta però armi buone non armi tipo bipera queste cose è alfa perchè questa qua allora dal 106 è modata però c'è la spada d'albero di natale si fra a che livello? 130 ti do questo e tu mi dà l'arma modata ok vedi là via 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 eh quindi questa qua per l'arma modata eh si si però fra... ma è sul perco dei cendari questa cosa vabbè lo vedi pure l'elevento natura si abbia l'elemento si lo vedo che facciamo tre però fra due a 2 a 3 cambia di scemi quelli che hanno paura ma siamo uomini siamo uomini e cambiò anche se voglio mi lo so e non so che un cazzo di marshmallow non fa avere paura eh lo so non mi permessi anzitutto ok permessi a modifico cadene ma eh chi è troppo da dove se l'idea a rafferati da un attimo permessi prima di droppare si 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 tranquillo troppa ii quello scarico dato ii troppa ii quello scarico dato ii mi senti si ok ti sento allora ok ok mi hai permesso così troppo si è vero per me se per l'auto per l'argomento senso che il senso no frano non è che mi fido tanto senza permessi c'è un po' un po' un po' un po' per questo è un problema mi costa e c'è insomma è stato il suo primo che la mano di strappo capito appunto se mi sta rompendo il filetto per collegare a me ma se il tuo amico ok ti passa il mio amico che ti vuole no, non vuole parlare a volare il mio no per orlando sempre orlando è piccolino per questo avrà 10 anni e me se deve imparare non vuole parlare timido e ma di io tu dico di corruto un po' la storia del corrente eh lo so vabbè comunque dovevo scambiare l'aperto io voglio scambiare l'aperto perchè comunque qua comunque è un'arma moddata ma io ho paura all'aperto eh ma siamo lontani eh punto e io saltello sempre saltello sempre scambiamo al chiuso no no ma non mi fido al chiuso c'è paura c'è paura c'è sono un po' c'è il rosso marcemello all'epoca ah bello io non mi vai a essere tranquillo aderrati ma prima di non ti mostro una cosa che un glitch per me che lo fermo fra ti mostro di gioco cerno ma è risposto spetta per la storia ora fa il volo non c'è 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 e di sputano a sputano coriandoli e l'improvviso da nulla spuntano visto che cliccerà li conoscono gli stili solo io li conosco eh si io ritorno da c'è la bella prima di dai a scambiare sono io riconosco solo io ok solo tu li conosco solo io i loro però tu ok non me ne fregavo eh no frateva prende un cecchino così vedo se è quella vera perchè c'è si fra quella rete uno eh non c'è un cecchino tu c'è un cecchino per caso è un cecchino eh no fra ho soltanto con lì la 130 che non troppo per far vedere le armi eh non mi fida mi fido mi fido vabbè forse c'ho un progetto non so penso di no però devo vedere mi senti? non è certo me ok no è un progetto per il microfono vabbè comunque avvicinati poco però almeno per vedere l'arma pronto avvicinare troppo ma avvicinare avvicinare per il basso basta vabbè tu riesci a vedere la affezione voce vederla da qua qua no ok la vedi? ok quasi ok la vedi può saltare così troppo vai ora so vai salto vai ora salto salta ok ci 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 si saltano sto saltando si la saltano so che sta saltando e mi fido di lei ah! no è lupo ragazzi come avete visto cercate di truffarmi mi ha cacciato ma io furbo furbo lo ripresa l'arma lo ripresa lo ripresa vi ricordo iscrivervi al canale mio instagram in descrizione insieme a chris shop con il codice sconto x madre per maggiore ovviamente per lo sconto detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video dai bella ciao ciao